たやむり Questa è Blue Marble ed è la prima immagine che abbiamo del nostro pianeta completamente illuminato dal Sole. Dagli anni 70 è diventata un simbolo, soprattutto per gli ambientalisti, della fragilità, della bellezza e della vulnerabilità del nostro pianeta. Io, ogni volta che osservo questa immagine, vedo un pianeta unico e straordinario, di cui siamo ospiti. E tutte le volte la guardo e mi ricordo che dallo spazio si vede solo il blu degli oceani e il verde delle terre emerse, non si vede l'impronta degli esseri umani, la nostra impronta. E quindi per me questa immagine è diventata un simbolo per ricordarmi che anche senza di noi, noi esseri umani, il nostro mondo continuerà comunque ad esistere, continuerà comunque il suo moto attorno a se stessa e attorno al sole. La prima volta che ho scoperto che il ponte tra uomo e natura si era rotto è stato in prima elementare, quando passando accanto al mio pratone, ovvero il campo accanto a cui passavo tutte le mattine, ho scoperto che di lì a poco sarebbe diventato una strada provinciale. Per me, per la strada di sei anni, quella era la più grande ingiustizia che l'uomo poteva commettere nei confronti della natura. Quindi ho deciso di attivarmi e con l'aiuto dei miei genitori ho scritto una lettera al Presidente della Repubblica. Per me quello è stato il mio primo atto di attivismo, il mio primo atto di attivista, anche se poi alla fine non sono riuscita comunque a impedire la distruzione di quell'enorme pezzo di verde come vediamo in foto. Però per me è stato un po' il mio primo passo per voler proteggere la vulnerabilità del nostro pianeta, così ben rappresentata anche nella foto di Blue Marble. Una vulnerabilità e una fragilità che è anche una vulnerabilità nostra, perché io tutte le volte che accadono degli eventi che sottolineano quanto l'uomo ha abusato del nostro pianeta, ecco io mi sento fragile, mi sento vulnerabile. E secondo me tutti noi dovremmo scoprirci più vulnerabili e dovremmo riflettere su quanto abbiamo distrutto il ponte tra uomo e natura. Io mi sento molto spaisata quando ad esempio accadono degli eventi che sottolineano questa cosa, come ad esempio la distruzione del partone, ma anche gli incendi in Australia che hanno colpito tutti noi lo scorso anno. Io tutte le volte che mi sento fragile, mi sento vulnerabile, mi inizio a chiedere se effettivamente ha senso anche solo investire nel mio futuro, proseguire gli studi o provare a cercare una casa. Ecco, gli scienziati di tutto il mondo hanno creato un orologio climatico, il climate clock, che è questo che vediamo qua, che segna quanto tempo abbiamo ancora per agire, per contrastare la crisi climatica ed evitare i cosiddetti punti di non ritorno. E a me onestamente questi dati mi fanno riflettere, mi creano un'ecoansia, un'ecopaura. E secondo me tutti noi dovremmo avere un po' di ecoansia, un po' di ecopaura verso il futuro. Una paura che però non ci paralizza, che però ci aiuta ad agire e ci permette di creare anche delle soluzioni per il futuro. Io sono di parte e credo che tutti noi forse dovremmo essere dei piccoli attivisti per il clima, che usano la propria voce, le proprie scelte, ma anche e soprattutto la propria quotidianità per creare un futuro migliore e più equilibrato. Come noi banalmente abbiamo tutti in tasca uno smartphone e tutti noi possiamo provare a scaricare moltissime app che ci permettono di calcolare la nostra impronta ecologica e quindi anche migliorarla e anche provare ad avere un impatto minore sul nostro pianeta. Ci può aiutare anche a fare una raccolta differenziata nel modo corretto e inoltre il nostro smartphone ci dà anche accesso a un sacco di informazioni, informazioni che possono essere usate per fare una piccola ricerca sulla sostenibilità sia ambientale ma anche sociale di aziende o anche solo di singoli prodotti. In questo modo possiamo essere dei consumatori più consapevoli e avere un reale impatto sul nostro pianeta e migliorare la nostra impronta ecologica. Poi citando Aristotele, l'uomo è per sua natura un animale politico e come tale deve assumersi la responsabilità del bene comune. Tutti noi abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il nostro pianeta ed è una responsabilità che non si può demandare agli altri. È una responsabilità verso la comunità in cui si vive, verso la polis e quindi tutti noi abbiamo il dovere di migliorare il nostro territorio. Tutti noi possiamo votare, possiamo indicare la direzione dei nostri rappresentanti politici nelle decisioni e soprattutto scegliere i nostri parlamentari. E in questo modo possiamo avere un reale impatto sulla nostra comunità e sul nostro territorio. Però la domanda che mi viene fatta più spesso è qual è la differenza tra una persona che fa tutte queste cose e un attivista ambientale? È che un attivista ambientale prova a creare del dibattito, prova a portare il dibattito nella propria quotidianità, quindi sia con gli amici che con i parenti, ma anche e soprattutto in ambito sociale. È un agente del cambiamento. Io credo che senza il dibattito non si possa avere la consapevolezza e senza consapevolezza non si può avere un mondo migliore, non si può provare a migliorare questo mondo. Quindi io vorrei dirvi di parlare di questi temi e anche se parlando e interessandoci di questi temi ci scopriremo inevitabilmente più vulnerabili. Io credo che questo sia il vero modo di creare un vero cambiamento. Quindi scopritevi vulnerabili, non abbiate paura della vostra paura e solo in questo modo potremo ricucire il ponte tra uomo e natura che si è rotto e creare appunto un mondo più equilibrato. Grazie. 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 Grazie.